Questa sera proviamo un Frank's Cucina de Coffeeshop Allora abbiamo una bomba alla norma, un calice di vino e da questo lato un supplicato e pepe Questa è mezza porzione di polpettini al sugo con un po' di pane Questa è una macchina di tutto accompagnato da Andrea e Pettina di Pana Ma ce ne sono altre là E per concludere la cena abbiamo un buon tiramisu No Grazie a tutti. Grazie a tutti.